Il prestigioso Palazzo dei Portici Meridionali di Piazza Duomo è stato giudicato a Siam, società incremento alberghiero Milano, che si occuperà della riqualificazione dell'edificio e dell'apertura di una nuova struttura ricettiva di lusto. Lo storico edificio era stato messo a bando lo scorso gennaio dal comune di Milano ed è stato aggiudicato per un canone annuo di affitto di 4 milioni e 55 mila euro. Al bando aveva inizialmente partecipato anche Bulgarella Group, escluso poi dalla contesa a causa di difformità nella documentazione amministrativa presentata per partecipare al bando. Siam avrà la concessione per i prossimi 36 anni e sebbene la struttura sia da di birra ed albergo avrà la possibilità di introdurre funzioni accessorie quali bar, ristoranti, sale eventi e una spa. Il restyling e le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell'investitore ma qualsiasi intervento, esistendo sull'edificio un vincolo storico architettonico, dovrà essere sottoposto al parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano. La struttura si sviluppa su una superficie di 8.000 metri quadrati su 5 piani a cui aggiungere un piano terra che resterà spazio adibito a negozi anche dopo il restyling, due interrati e il sottotetto. Quella fra via Dogana, via Marconi e via Mazzini è una struttura storica realizzata nel 1875 da Giuseppe Mengoni, ingegnere e architetto anche della Galleria Vittorio Emanuele II. L'edificio negli ultimi anni era utilizzato ad uso ufficio dall'amministrazione comunale ma la manifestazione di interesse di alcuni operatori alberghieri ha fatto sì che venisse a questo bando dal comune.